Ce l'ho fatta, ho venduto il Mac e l'ho venduto alla cifra che volevo io, ma su quale tra i tanti siti che ho usato per metterlo in vendita? Eccomi qua, sono pronto a svelarvi la classifica che dividerò in tre parti. Numero 1, il sito dove ho ricevuto più contatti. Numero 2, il sito dove ho perso purtroppo più tempo. Numero 3, il sito che effettivamente ha venduto il mio oggetto. Ma attenzione, la sfida sarà tra Ebay, Subito, Kijiji e Facebook. Volevo anche farla con i gruppi Facebook, ma purtroppo non ho fatto tempo a mettere l'annuncio che era già stato venduto e quindi sono esclusi da questa classifica. Partiamo proprio dal sito dove ho ricevuto meno contatti di tutti, che purtroppo è stato Kijiji. L'annuncio è stato pubblicato il 21 novembre, come per tutti gli altri siti. Ma in 5 giorni nessuno mi ha contattato, nonostante l'annuncio abbia ricevuto 83 visite e sia stato per tutto il tempo nella prima pagina. Su Subito invece ho realizzato ben 112 visite, con 8 contatti, nonostante l'annuncio sia finito dopo 5 giorni in quinta pagina. E su Facebook invece, con mia grande sorpresa, sono riuscito a fare 339 visualizzazioni, con 11 contatti, ovviamente tramite Messenger. Ma su eBay? Eh, su eBay è successa una cosa alquanto curiosa e bizzarra. In meno di 24 ore avevo già ricevuto una mail della vendita dell'oggetto e onestamente ero un po' preoccupato perché dovevo ancora girare delle clip con il Mac. Ma meno di 10 minuti dopo l'acquisto mi è arrivata un'altra mail con la richiesta di annullamento. Ovviamente è stata mia premura subito annullare l'acquisto per poi rimettere in vendita l'oggetto, ma comunque ho voluto chiedere all'acquirente come mai hai voluto annullare? E lui mi ha risposto, eh, mi sono sbagliato ad acquistare. E beh, almeno è stato onesto perché la risposta più classica su eBay è, eh, mia figlia ha sbagliato a digitare e ha acquistato. Già, perché i bambini acquistano su eBay tutti i giorni. A parte questo acquisto un po' bizzarro, su eBay mi ha contattato un'altra persona proprio il giorno in cui ho spedito il computer. Quindi alla fine non ho finalizzato. Magari potevo finalizzare anche con questa persona qui, però non lo sapremo mai. Ho comunque realizzato 99 visiti con tre utenti che stavano osservando il Mac. Ma su quale sito ho perso più tempo? Eh, proprio su Facebook, dove ho anche ricevuto più contatti. Figuratevi un po', ci sono persone che mi devono rispondere ancora adesso. Sembra che tu ci stai prendendo noi in giro. Ti diverti col nostro tempo, bravo, complimenti. Ma su quale sito ho effettivamente venduto l'oggetto? Proprio su quel sito dove ho perso più tempo e ho ricevuto anche più contatti. Quindi Facebook. Qui ho trovato un acquirente del tutto onesto che non mi ha chiesto neanche un euro di sconto, ma voleva il pagamento con PayPal o bonifico bancario. Al che ho spinto sul bonifico bancario, ma in cambio ho regalato io l'assicurazione sulla spedizione. Quindi lei mi ha pagato 600 euro del computer più 12 di spedizioni. Il restante l'ho messo io per l'assicurazione. Ho apprezzato molto l'acquirente perché mi ha fatto anche delle domande alle quali io non avevo pensato di dar risposta direttamente nella descrizione dell'annuncio. Quindi ho imparato qualcosa anch'io in questa vendita. Nello specifico ad un certo punto della trattativa mi ha chiesto se mouse e tastieri inclusi erano originali o compatibili ed in effetti non lo avevo specificato nell'annuncio. Io ritengo sempre l'oggetto disponibile fino al momento in cui qualcuno non lo viene a ritirare oppure non mi arrivano direttamente i soldi sul metodo di pagamento che abbiamo concordato. E nel caso lei alle 10.37 di lunedì mi ha mandato la contabile del bonifico. Ma come abbiamo visto nella puntata su come evitare le truffe online, io non ho subito prenotato il corriere dando per scontato che i soldi mi sarebbero arrivati, ma ho prenotato il corriere per il mercoledì di modo tale da avere martedì e mercoledì di tempo per aspettare il bonifico e in effetti mercoledì il bonifico è arrivato. E giustamente vi chiederete ma la spedizione l'hai comunque prenotata e quindi se passa il corriere il pagamento non è arrivato e io non gli consegno il pacchetto e avrei detto al corriere passa il giorno dopo. Se anche il giorno dopo il pagamento non era sul mio conto ovviamente c'era qualcosa che non andava ma in quel caso mercoledì il pagamento è arrivato, ho consegnato il pacchetto al corriere e tutto io si è concluso per il meglio. SDA in 24 ore le ha consegnato il pacchetto, lei è stata molto contenta dell'acquisto e io altrettanto. Vendita conclusa al prezzo che volevo io in soli 4 giorni. Anche questo video è giunto al termine, se ti sei perso i precedenti qui ai lati ci sarà la playlist completa con tutte le puntate oppure un altro video suggerito direttamente da youtube per te mentre al centro il tasto per l'iscrizione e in descrizione tutti i link ai miei social network. Un saluto da Subri e a domani con un'altra puntata.